Valorizzare la visuale ottica del viale della spigolatrice che si apre verso il mare. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Sapri, che con una delibera di giunta ha espresso la volontà di dare risalto e di valorizzare l'ormai famosissima statua che rievoca la protagonista della poesia di Mercantini. L'amministrazione guidata da Antonio Gentile ha così disposto di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari affinché le strutture di fronte alla statua dal lato del mare vengano traslate di 10 metri a destra e 10 metri a sinistra, in modo da non interrompere la visuale ottica a corso Umberto I viale della spigolatrice spiaggia mare. Dopo oltre 20 anni dunque, il caratteristico chiosco bar dell'hotel Tirreno dovrà cambiare la sua collocazione. Nel raggio individuato dall'amministrazione infatti risulta questa l'unica struttura che impedisce una visuale aperta sul mare alla statua della spigolatrice.